SACMI è una cooperativa manifatturiera nata a Imola nel 1919, ha 70 aziende controllate nel mondo in 26 paesi. Opera in diversi settori, in diversi business. Il business principale è quello delle macchine e impianti completi per il settore della ceramica. SACMI ha appena sviluppato un piano strategico, corporate, che prevede il rafforzamento di alcuni suoi business e la crescita in business paralleli. Per fare questo l'innovazione si deve avvalere delle tecnologie abilitanti più moderne che ci sono sul mercato. Oggi parliamo di intelligenza artificiale piuttosto che di digitalizzazione. Quindi abbiamo completato la catena del valore nella ceramica proprio con l'obiettivo di rafforzare la competitività del gruppo attraverso il supporto finanziario del CDP. L'obiettivo industriale rispetto alle ESG è quello di creare degli impianti per il futuro ad emissioni zero. I nostri soci sono prestatori di opera, prestatori di ingegno e non di capitali. CDP ha concesso un finanziamento a medio e lungo termine di 75 milioni di euro a 10 anni a SACMI. Questo è il classico esempio di come CDP possa intervenire a sostegno delle imprese italiane per la crescita e per l'innovazione. Questo finanziamento consentirà a un capofiliera come SACMI di accelerare il proprio processo di innovazione e di completare la propria gamma di prodotti nel settore ceramico. Nell'ambito del rafforzamento del business della ceramica, CDP ha giocato un ruolo fondamentale permettendoci l'acquisto di un'azienda a cui abbiamo garantito un passaggio generazionale bilanciando le risorse finanziarie e il progetto industriale. CDP rappresenta il partner ideale con cui aggregare politiche industriali di lungo periodo.